Buongiorno a tutti, sono Andrea Burdi, Sales Manager della Mimaki Bonpan Textile e oggi vi voglio parlare del processo di stampa, sublimazione e termoformatura dei materiali grazie alle tecnologie Mimaki. Per iniziare andremo a stampare i nostri file su una carta sublimatica a basso assorbimento tramite il nostro plotter Mimaki che utilizza inchiostri a base acqua. Successivamente la carta viene posta a contatto con il materiale che si intende sublimare e vengono quindi poi accoppiati e inseriti in una pressa riscaldante impostata a 200 gradi in modo che gli inchiostri possono trasferirsi e penetrare nella parte acrilica della nostra superficie accoppiata. A questo punto il nostro prodotto, che rimane flessibile per la temperatura raggiunta, è pronto per essere termoformato con un'altra macchina, processo che consiste nell'appoggiare il materiale sul modello di cui si vuole che prenda la forma. Grazie alla creazione del sottovuoto, il materiale replicherà esattamente la forma della dima e, una volta tornato alla temperatura ambiente, questo manterrà la rigidità originale. Grazie come sempre per l'attenzione e vi invito a venireci a trovare sui nostri social Facebook, LinkedIn ed Instagram e naturalmente sul nostro sito www.mimakibuonpa.com. Grazie ancora e alla prossima!